Violenze e danneggiamenti nel carcere di Belluno. Un poliziotto ferito domenica notte con prognos di 5 giorni e danni per migliaia di euro. I sindacati di Polizia Penitenziaria denunciano ancora una volta locali inadeguati, mancanza di rispetto delle regole di sicurezza nei luoghi di lavoro e turni massacranti per gli agenti. Sono i sindacati della Polizia Penitenziaria, Sinappe, OSAP, USP, CISL, FNS, CGL, FP, PP a denunciare gli ennesimi allarmanti episodi capitati all'interno della sezione Comuni dell'Istituto Penitenziario Bellunese. Nelle serate di giovedì 1 agosto, sabato 3 e domenica 4, alcuni detenuti hanno messo in atto violente manifestazione di protesta, appiccando fuochi, distruggendo impianti di bitosorveglianza, vetrate, locali doccia, bile citofini e impianto elettrico, provocando danni per migliaia di euro. In tutte e tre le occasioni è stato chiesto il supporto dei poliziotti penitenziari liberi dal servizio o in ferie per sedare le proteste. Considerata altresì la carenza cronica di personale che costringe i poliziotti penitenziari a svolgere quotidianamente lavoro straordinario, il personale di Polizia Penitenziaria denuncia come negli ultimi giorni sia stato costretto ad un ulteriore tour de force massacrante per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno dell'Istituto Bellunese.